D'accordo signori, ultimo giro in live Purtroppo Martina sta vincendo Zitto! Ah! Martina sta vincendo Ebbene, ha fatto quinto quindi li preoccuparà un sacco di punti Penso che non abbia voluto rischiare nulla, picco E vabbè Ma vericche però, che cavolo, mamma mia Non è possibile, non so che gli è successo Forse è nata a voto alle gomme Martina sembrava non averne Invece, c'è addirittura primo Cioè, Binder, quando fa il Binder non lo deve fare Quando non deve fare il Binder lo fa Quando deve fare il Binder non lo fa Cioè, io non lo so Mark è sempre là vicino alle palle Però, cioè, almeno tieni dietro Martina Niente, ma Bagnaia pure attaccato da Dijan Nando Manca mezzo giro Però un decimo dovrebbe tenerlo Vediamo un po' che succede Ricordo che se Martina cade Il Mondiale di Pecco Però mancano tre curve alla fine Quindi non penso che cada Sono 14 punti Quindi sarà molto, molto Molto dura domani Cioè, 14 non sono pochissimi Però, comunque, è un casino Cioè, la tensione Cioè, Dio Cagno La tensione Però Binder si è avvicinato A Martin All'erettilino finale Cosa serve adesso Uscire bene da quella curva Binder? Secondo te lo passi? No Perché Martin ha vinto E fisce così Martina Binder Marquez Vignale Sbagna E Dijan Antonio E vaffangul Sbagliata